Porte aperte per cittadini, associazioni e comitati all'assessorato alla qualità della vita e alle pari opportunità. I partecipanti al primo incontro di oggi si sono accreditati con le procedure previste nei giorni scorsi per accedere al tavolo di lavoro, portando informazioni che consentiranno un monitoraggio concreto della realtà, oltre che quantificare le forze ed individuare il capitale umano con cui lavorare. E la prima risposta all'appello è stata già positiva. Molto sorpresi di questo assessore in linea con il nostro sindaco, cioè molto aperto alla cittadinanza, una grande volontà, grande volontà di partecipare, grande entusiasmo. L'intento è quello di creare un filo diretto tra assessorato e cittadini, che a partire da settembre possa trasformarsi in un dialogo aperto e costante, per concorrere a stabilire gli obiettivi e gli strumenti per realizzarli. I tavoli aperti oggi riguardano la qualità della vita e il decoro urbano e quello per le pari opportunità. All'interno di questi tavoli si svilupperanno varie azioni, il monitoraggio della cittadinanza sul decoro urbano, il braccio armato dell'assessorato come volontariato per aiutare nelle pulizie, proprio nella riqualificazione della città e anche nella partecipazione, per esempio, di adotto una iula, adotto una strada e tutte queste altre deleghe di cui noi dobbiamo occuparci. E poi ci sarà il tempo per la proposta, quindi la proposta all'interno di discussioni articolate e argomentate dove le migliori proposte verranno portate da me alla commissione pari opportunità, per diventare poi atti concreti. Grazie. Grazie.